A decidere sul nuovo assetto delle province pugliesi sarà il Consiglio regionale. La decisione è stata presa dalla conferenza di capigruppo che ha fissato la discussione sull'argomento per lunedì prossimo. Ribaltata dunque la scelta della Commissione Affari Istituzionali che aveva annunciato l'intenzione di voler rimettere la decisione al Governo nazionale. Una scelta si era detta legata alla volontà di evitare in Consiglio regionale un tutto contro tutti, su un tema palesemente sensibile e controverso ma che era stata accolta non senza malumeori da alcuni consiglieri. A richiamare all'ordine il Consiglio regionale ci ha pensato l'assessore al bilancio Michele Pelillo che ha sollecitato i consiglieri ad entrare nel merito della questione affermando di non comprendere la scelta e non decidere su un argomento che approfonde ricadute a livello territoriale. Infatti in aula l'assessore regionale al bilancio Michele Pelillo aveva cercato di far discutere un ordine del giorno firmato anche da altri consiglieri tarantini nel centro-sinistra e nel centro-destra sulla costituzione della provincia di Brindisi e Taranto giudicata la scelta più oculata per differenza del Grande Salento che non lo sarebbe, ha detto l'assessore. L'ODG per l'illitualità dei tempi di presentazione non è stato discusso dall'Assemblea tuttavia a causa del termine perentorio del 24 ottobre per la trasmissione al Governo delle ipotesi di riordino assunte dalle regioni. La conferenza dei capigruppo ha deciso di convocare lunedì il Consiglio regionale con all'ordine del giorno una relazione dell'assessore Marida Dentamaro sul riordino proprio delle province.